Le mille luci del mattino Le mille luci del mattino è un romanzo urbano. Emma, la protagonista, comincia a lavorare in una grande azienda, un mondo di acciaio e vetro dove incontra delle persone che la segneranno per tutta la vita e dove viene coinvolta in una intensa storia di amore, gelosia, tradimento, mobbing, ambizione e anche profonda amicizia e tenerezza. Credo che la mia educazione sentimentale e la mia conoscenza della gente cominciano la prima volta che sono entrata in un ufficio. Ho consegnato a Emma questa sottile battaglia sulla moquette per il successo, per la sopravvivenza. Spero, cari lettori e lettrici, che vi piaccia il mio libro. Grazie. Grazie. Grazie.